stella per pavarotti sulla walk of fame pesaro protagonista a los angeles femminicidio a bologna arrestato il 26enne di senigalia via ponchielli vecchio distributore abbandonato da 15 anni cambiamenti nel consiglio comunale pesarese biagiotti esce dalla lega monte cicardo pronta a vestirsi in stile anni 70 benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì 25 agosto apriamo questa edizione parlando del conferimento della stella sulla walk of fame a luciano pavarotti cerimonia che ieri sera abbiamo trasmesso in diretta sulla nostra emittente alle 20 e 30 in diretta appunto da los angeles e che vi facciamo vedere in modo sintetico in questo primo servizio per tutte le volte che dalla seggiola di un palco dalla poltrona in cui ero seduta con le tante sfumature del suo canto con una frase estruggente per bellezza o sentimento con un pianissimo o un acuto squillante mi ha ciuffato al volo e mi ha portato in alto in alto in alto splendeva la sua voce in basso ora luccica il suo nome il gigante della musica lirica italiana luciano pavarotti da ieri sera è diventato la 2730esima stella sulla famosa hollywood walk of fame di los angeles la sua immagine le sue sfumature vocali e il suo modo gentile umano di rapportarsi lo hanno reso celebre in tutto il mondo facendosi voler bene da tutti anche da chi a quella sfera musicale non riusciva proprio ad appassionarsi nato e deceduta modena pavarotti era però anche cittadino onorario di pesaro diventata la sua seconda città che per tante stati ha accolto lui e la sua famiglia per le vacanze al mare in viale trieste e proprio dal mare si può vedere la villa di sua proprietà che si affaccia su baia flaminia che per molti ha rappresentato un punto di attrazione nel ricordo di big luciano pesaresi da sempre legati affezionati ad uno dei più grandi tenori di tutti i tempi e che ieri sera guidati da un amore sconfinato hanno seguito in diretta streaming da piazzale della libertà la posa della stella ad hollywood diretta che avete potuto seguire anche sul canale 80 di rossini tv un collegamento di circa un'ora con la città di los angeles dove erano presenti in rappresentanza della città di pesaro anche il sindaco matteo ricci il vice sindaco daniele vimini e il direttore generale del roff christian della chiara in piazzale della libertà pesaro invece a commentare la cerimonia c'erano alberico minucchi ex dirigente del comune di pesaro giorgio ciani socio genoma films e adam lorenzetti responsabile pubblica e relazioni del roff a chiudere la serata pesarese è stata la stella nascente raffi la 22enne pesarese che dopo aver aperto i concerti 2022 di vasco rossi si è esibita per la prima volta nella sua città natale ad hollywood è salita sul palco a cuore aperto la figlia cristina che a nome delle altre eredi le sorelle lorenza e giuliana la sorellastra alice nicoletta mantovani ultimo amore del grande tenore ha ricevuto l'attestato di conferimento della stella una piastrella celebrativa che si trova al numero 7065 di hollywood boulevard proprio in quella walk of fame lunga due chilometri che da ieri sera accolto un'altra celebrità che con il suo talento ha contribuito a far brillare l'industria dello spettacolo mondiale ed ora passiamo alla cronaca con la notizia del tragico femminicidio avvenuto a bologna martedì sera in cui a rimetterci la vita è stata Alessandra Matteuzzi 56 anni uccisa sotto casa martellate dal suo ex Giovanni Padovani di 26 anni di Senigallia calciatore di serie D i due sono stati fidanzati per circa un anno poi però il rapporto si è incrinato e lui ha iniziato ad essere pericoloso le denunce di stalking da parte di lei fino a quando lui alle 21 di martedì scorso si è presentato sotto la sua abitazione pronto ad aspettare lei che stava rientrando nel suo appartamento appena scesa dalla sua auto Alessandra è stata aggredita dal suo ex venendo uccisa a colpi di martello in testa sconvolti i familiari della vittima in attesa ora dell'interrogatorio a Giovanni Padovani in programma per domani 26 agosto ed ora cambiamo argomento e diamo spazio al consueto appuntamento con le vostre segnalazioni vi ricordiamo come sempre di scriverci al nostro numero whatsapp 370 366 72 10 invece segnalarci le cose che non vanno in questo caso prendiamo in esame la segnalazione che ci arriva da via Ponchielli angolo via Solferino dove da 15 anni esiste una situazione di incuria e allora la scopriamo in questo prossimo servizio 15 anni fa era un distributore di benzina e diesel oggi è un distributore di sporcizze e degrado ci troviamo in via Ponchielli angolo via Solferino e a segnalare a Rossini TV questa situazione è la signora più anziana della palazzina a fianco esausta dello scempio che da tempo si trova davanti agli occhi l'erciume che è presente 365 giorni l'anno ma la condizione di vivibilità diventa insostenibile soprattutto d'estate quando zanzare e altri insetti attirati da caldo e cattivo odore infastidiscono la quotidianità dei residenti di quella zona erbacce e piante incustodite che a vista d'occhio rendono indecorosa l'intera area in un punto in cui ogni giorno passano centinaia e centinaia di veicoli tetro e fatiscente è anche l'ultimo baluardo di ciò che è rimasto della vecchia stazione di servizio il capanno in mattoni e calcestruzzo è infatti diventato più una baracca che altro con murales in tonaco decadente e parti del tetto dalla vita breve a regalare un aspetto poco invitante e accogliente aspetto da considerare anche in vista di pesaro capitale della cultura 2024 a colorare di negativo l'intera area recintata ci ha pensato anche chi incivilmente fregandosene del rispetto dell'ambiente e della comunità ha gettato rifiuti a terra scambiando quel contesto per una discarica ad intorpidire le serate dei cittadini ci stanno pensando anche i topi che dall'erbaccia alle fogne e dalle fogne alle erbacce passano in area al buio tra cespuglie e foglie spaventando i residenti quegli stessi residenti che pretendono da anni una risposta immediata da parte delle autorità competenti sperando in un quanto mai necessario provvedimento ma del quale ancora non hanno visto traccia è notizia di oggi la decisione presa dal consigliere comunale di Pesaro Roberto Biagiotti che ha comunicato all'agenzia Dire la sua uscita dalla Lega per candidarsi alle elezioni politiche con impegno civico in seconda posizione nel collegio plurinominale della Camera Nelle Marche l'adesione al partito fondato da Di Maio e Tabacci è arrivato a seguito a suo dire di una mancata riconoscenza della Lega nel lavoro svolto da lui in questi anni portandolo a cambiare squadra schierandosi quindi con il centro-sinistra il gruppo consigliare della Lega passa ora da 5 a 4 consiglieri ed ora cambiamo argomento sarà una prima edizione in pieno stile anni 70 è questa l'idea infatti di Montecicardo 70.0 il nuovo evento pronto a colorare il suo borgo con le sfumature del passato abbiamo pensato di organizzare una festa di fine estate a Montecicardo dopo gli anni del Covid e anni in cui non si riuscivano più a fare feste in piazza abbiamo pensato di riportare prima di tutti i montecicardesi e gli abitanti di Montecicardo in piazza tutti insieme post Covid e poi con quest'idea degli anni 70 cercare di coinvolgere persone anche da fuori a venire nel nostro borgo ci saranno un DJ anni 70, un gruppo di Montecicardo, i Persistono e i Babbel un gruppo che suona musica anni 70 che allietterà tutta la serata e oltre qualche stand gastronomico per chi vuole mangiare ci sarà anche un dress code? ma sì è gradito un dress code anni 70 per chi vuole venire a fare folklore insomma durante la serata è sicuramente gradito per riportare un po' di vecchio spirito nel paese conosco vari artisti qui a Pesaro dal DJ ai gruppi musicali i quali felicissimi hanno risposto immediatamente sì a questa festa perché ci sono due gruppi musicali, le loro scalette quindi saranno anni 70 musica italiana anni 70 il rock degli anni 70 ma soprattutto il gran finale sarà disco music anni 70 da dove è nata l'idea? Perché Montecicardo 70.0 e perché vengono ricordati gli anni 70 in questa festa? Allora purtroppo negli ultimi anni gli anni 70 sono stati poco festeggiati a Montecicardo invece mi ha scoperto che ci sono dei gruppi musicali che vivono anche facendo musica anni 70 li ho anche ascoltati nelle serate di via Cavour e quindi perché no far diventare Montecicardo 70.0 Prosegue questa sera la fiera fanese di San Bartolomeo sono circa 200 le bancarelle che popoleranno le due strade principali di via Dante Alighieri e viale Adriatico per una fiera probabilmente arrivata alla sua ultima edizione in zona Sassonia dal prossimo anno come annunciato dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli l'intenzione è quella di spostarla nell'area che va dal parcheggio di fronte al pesce azzurro fino a Lido compreso passando per il porto domani si terrà l'ultima giornata della fiera Venerdì del Novecento è questo il titolo dell'evento ideato da Pesaro i tuoi spazi per promuovere e valorizzare i quartieri della città evento che si svolgerà domani presso il centro commerciale di via del Novecento alla Celletta dove dalle ore 19.30 alle 20 si esibirà Gymnal Pesaro dalle 20 alle 20.30 tanto divertimento per i bambini con il mago e poi a seguire ci saranno le letture per bambini in collaborazione con la biblioteca Cinque Torri dalle ore 21 fino alle 22.30 l'esibizione live di due gruppi musicali mentre dalle 22.30 in poi l'appuntamento musicale con DJ Auerbach è in programma per domani sera 26 agosto l'appuntamento a Cantiano con Giovanna Russo sulle note di Mina un concerto che avrà inizio alle ore 21.30 in piazza Luceoli in cui verranno ripercorsi più grandi successi della cantante attraverso la straordinaria voce dell'interprete che ha collaborato in passato anche con la RAI e sempre domani 26 agosto alle ore 21 in piazzale della Libertà a Pesaro ritorna il Grand Festival evento che allieterà turisti e cittadini con balli, canti, colori e sfilate di moda si esibiranno giovanissimi ma anche adulti provenienti da Bielorussia, Georgia, Lituana e Italia ed ora andiamo a scoprire il penultimo appuntamento con l'arena BCC di Fano in programma sempre per domani sera questa compagnia è da oltre 30 anni che si esibisce nelle varie piazze e teatri della nostra regione e anche fuori regione con commedie dialettali in dialetto fermano e sketch nel 2003 hanno partecipato al programma televisivo su canale 5 di Gia di Scotti la corrida vicendo la puntata adesso venerdì 26 agosto alle ore 21.30 saremo qui a Fano in questo splendido teatro arena BCC con una commedia dialettale di un unico atto dal titolo male una e peggio l'altra in italiano male una e peggio quell'altra è una commedia che ha avuto un grandissimo successo anche dalle altre parti e io mi auguro che la gente partecipa e siamo contenti di essere qui perché è un posto bellissimo questo continuiamo e restiamo a Fano parliamo in questo caso di sport soffermandoci sull'obiettivo della petizione presentata oggi in comune da alcuni appassionati all'Alma Juventus Fano per intitolare a Federico Bronco Santini una curva dello stadio Mancini il 31enne grande tifoso dell'Alma e frequentatore della curva si tolse la vita nell'agosto del 2010 dopo la scomparsa di sua figlia a causa di un terribile male la petizione popolare è riuscita a raccogliere 144 firme per chiedere al comune di Fano di intitolare la curva dello stadio dell'Alma come curva bronco un'altra notizia di sport in questo caso la VL Basket Pesaro ha comunicato in queste ore attraverso i suoi profili social che la partita in programma il 31 agosto contro la Risto Pro Fabriano si disputerà a porte chiuse la decisione è stata presa a seguito del numero ridottissimo di posti all'interno del palazzetto dello sport di Carpegna e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale questa sera però se non avete ancora visto la puntata di Green Tour dedicata a Gradara vi consiglio veramente di guardarla alle ore 21.20 potrete vederla sia in tv sia attraverso la nostra applicazione sia attraverso il nostro sito internet il nostro programma di punta che tra l'altro ritornerà a settembre con nuove puntate e nuovi tour nella nostra bellissima provincia di Pesaro Urbino e poi vi ricordiamo che domani torna la rassegna stampa alle 7.20 con voi ci sarà Antonio Astuti e sempre domani il nostro consueto appuntamento delle 17.30 con la lettura e il commento al Vangelo della Domenica cura di Don Marco Di Giorgio vi ricordiamo che questa stessa puntata la potrete rivedere sia sabato che domenica vi consigliamo inoltre di scaricare gratuitamente la nostra applicazione molto utile se ad esempio andate in vacanza molto utile se siete fuori dalla regione Marche per seguire sempre l'informazione locale con Rossini TV grazie mille per essere stati con noi adesso c'è il meteo per vedere come sarà il tempo in questi prossimi giorni buona serata grazie mille per essere stati